Casse di legno buttate sui marciapiedi, sacchetti dell'umido semiaperti, bottiglie di plastica insieme a materiale ingombrante. Questa discarica si chiama Via dei Gracchi, centralissima via di Roma tra Piazza San Pietro e Castel Sant'Angelo. In mezzo il passetto dove una volta il Papa fuggiva dalle pietre dei Ranzichenecchi e dove ora quelle pietre si staccano dalle mura. Le immagini di degrado della capitale non lasciano spazio a repliche. Un'emergenza per cui la sindaca Raggi ha promesso l'affissione di 90 nuove telecamere e che sembra essersi spostata dalla periferia di Roma Est alle zone del centro, come il Circo Massimo. La raccolta porta a porta funziona in tre municipi su dieci, il 45% del territorio comunale. Una situazione poco gestibile che esaspera i cittadini. Buttano tutto quello che c'è da buttare. Tutti si comportano come a livello civile. I cambi che scaricano i materiali, il cartone, la buttano per terra e se ne vanno. A volte si accumula, poi all'improvviso ritirano, poi si riaccumula di nuovo. L'elenco delle colpe è lungo, ma se Roma si vuole adeguare alle altre capitali europee, il porta a porta deve essere solo il primo passo.